L'associazione Takamori è lì di annunciarvi il quinto film della rassegna AFS Primaverile in collaborazione con Asia Institute martedì 4 aprile. Fish Story è inventato nel 2012. Una cometa si sta per schiantare sulle coste del Giappone e mentre tutti tentano di salvarsi, un uomo si ferma in un negozio di dischi incurato del pericolo. Lì tengono raccontate tre storie ambientate in anni diversi che mantengono un filo conduttore comune fino a culminare nel finale. Per acquistare i biglietti visitate circuitocinemabologna.it e se siete interessati alla rassegna o volete maggiori informazioni www.takamori.it oppure sul nostro canale YouTube Associazione Takamori.